consiglio anche di godervi tantissimo i gruppi, ci sono dei progetti, delle cose che farete di gruppo veramente molto belle, c'è la possibilità di costruire relazioni che poi vi porterete dietro, io vi sto portando dietro dall'aula e che dire, approfittate anche a anche di loro, che si impegnano con passione e grande edizione, non vi spaventate, non andate in panico su delle cose che a un certo punto vi sembreranno veramente incomprensibili, datevi il tempo di assimilare, di consolidare e poi vedrete che tutto è fluido e di grandissima soddisfazione, quindi insomma è bocca al lupo, dateci dentro. Ho scelto Tiziano che è l'unico esponente maschile del mio master, eccolo lì, allora l'apriamo magari, ecco facciamo questo passaggio, mi consegne e poi... Ciao! Grazie! 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 Grazie!